Lui è Billy, è bravo con i computer, è bravo con la matematica, non è bravo con le bille, ma questo qua è un altro discorso ma non siamo qui ad approfondire. Questo vuol dire che Billy quando era a scuola era il più bravo della classe, significa che quando era all'università prendeva tutti i trentellode, i genitori super contenti, i genitori di altri bambini addirittura invidiavano loro e volevano anche loro un bambino così facendo sentire gli altri figli una merda. E allora perché quando Billy arriva nel mondo del lavoro ha solo persone che gli dicono cosa deve fare? Perché il mondo è governato dai soldi e non importa quanto sei bravo tecnicamente a fare qualcosa, conta solo quanto sei bravo a far entrare soldi. E Billy era così bravo con i computer e con la matematica che non ha mai dovuto imparare come far arrivare i soldi. In America tutto questo viene chiamato golden handcuff, che vuol dire manette d'oro. Io mi ricordo che quando facevo ingegneria informatica e avrei voluto fare dei lavori magari più creativi o più gestionali, comunque in maniera meno puramente tecnici, mi chiedevo spesso ma io per quanto tempo dovrò pagare la colpa di essere stato bravo in matematica? Perché ovviamente tanti di noi si ritrovano a fare ingegneria informatica o ingegneria o qualcosa del genere, perché da piccoli siamo stati bravi in matematica, eravamo gli unici bravi in matematica e quindi continuiamo in quella direzione lì. Pensando che quella è la star way to heaven, no? E purtroppo molto spesso non è così. E quindi non deve meravigliarci che tanti sviluppatori che guadagnano 100k, 150k, che ricevono le stock option della loro azienda, che lavorano magari per una delle big tech, come può essere Facebook, Intel o qualcosa del genere, e poi alla fine dicono, sì ma tu, parlando di me, che guadagnano 50k, 60k quando va bene all'anno, ma tu sei più avanti di me. Io non avevo mai capito benissimo questa frase qui, ma ora piano piano la sto capendo ed è per questo che studiare ingegneria informatica può farti rimanere povero. Cito spesso l'episodio del mio podcast sull'ex Silicon Valley, che ora ha tutta un'attività molto interessante. Tra l'altro uscirà un secondo episodio con lui a brevissimo. Lui ha avuto successo con delle competenze informatiche, ma per farlo ha preso le sue manette e l'ha distrutte. Le sue manette dorate. Lavorava in Silicon Valley, aveva tutto, aveva un ottimo stipendio e ha distrutto tutto per inseguire i suoi sogni. Stessa cosa ho dovuto fare io. Perché io dopo che avevo preso la laurea, nonostante volevo fare tutt'altro, anche attraverso società private, eccetera, ogni volta che provo a cercare lavori più gestionali, più manageriali, più di questo tipo qui, mi portavano sempre a fare roba tecnica. Perché dicono, tu sei una persona, uno dei pochi tecnici, uno dei pochi con delle skill tecniche, perché devi metterti a fare un lavoro che può fare chiunque? E ora arriviamo al punto vero di questo video. Un buon programmatore in Italia guadagna tra i 60.000 e i 100.000 euro. 100.000 euro in realtà sono robi top, tech, lead, eccetera. Diciamo che 60.000 e già sei un buon programmatore che stai facendo già carriera. La maggior parte dei programmatori che conosco io guadagnano tra i 40 e i 60. Questa è la fascia più o meno di prezzo. La maggior parte dei manager che conosco io guadagna 80, 100k. Un politico guadagna 11k al mese. Risorsa sempre pecora nera podcast. Quanto guadagna un politico? Dipende. Dipende. Se ad esempio guardi il consiglio regionale guadagna su 11-12.000 euro al mese. Un ristoratore normalissimo fattore intorno ai 100k, 200k annui. Certo, qui ci sono tante spese. Però è per far capire quanti soldi arrivano. Ora arriviamo al discorso e ora si capisce cosa voglio dire. Però un ristoratore che ha competenza tecnica probabilmente non era neanche bravo in matematica. Poi è stato pure bocciato 3-4 volte. Ok. E lo trattano da maestro nei programmi televisivi. Gio Bastianich. Ci assomiglia un po' a Gio Bastianich? Gio Bastianich è laureato in filosofia. Ok. Cioè è laureato in una scienza delle merendine praticamente. Filosofia e studi politici, una roba del genere. Ora tu perché eri così tanto bravo in matematica, eri così tanto bravo in informatica, eri così tanto il più bravo della classe? Guadagna un cazzo e lui è gigantescamente ricco. Perché un blue collar qualsiasi che lavora in finance, che semplicemente lui mette a posto un po' i numerini dell'azienda, guadagna magari centinaia e centinaia di migliaia di euro l'anno? Come il SEO di YouTube. L'ultimo SEO di YouTube. Che ha fatto? Ha preso una YouTube già creata da Susan Wojcicki, ha aumentato un po' i prezzi dei premi, ha aumentato un po' di così, il fatturato è salito. Che ha fatto lui? Pochissimo. Solo ha aggiustato due numerini. Eppure lui magari guadagna centinaia e centinaia e centinaia di migliaia di euro. Perché qua arriviamo al punto del video. Se tu sei billy, la tua capacità di attirare soldi è solo in base alla tua skill. Che può essere anche decente. Puoi anche migliorarla e quindi guadagnare un po' di più dopo anni e anni in cui aumenti tantissimo la tua capacità tecnica. Ma la verità è che arriva il primo stronzo che organizza un gruppo di billy e a quel punto la loro capacità tecnica diventa così. E quindi è normale che la persona qua solo perché ha organizzato tre billy per farli lavorare nella sua azienda guadagna di più del singolo billy. Perché il suo impatto nel mondo è superiore. E allo stesso modo una persona che fa solamente la parte finanziaria in cui aggiusto solamente due numerini lui non ha tre billy ma c'è tutta l'azienda sotto di lui che fanno tutti quanti una cosa in maniera organizzata per ricevere più soldi. Stai capendo dove sto arrivando? Dove sto andando ad apparare? Ci sono delle azioni tecniche che portano effettivamente un certo guadagno nell'organizzazione. E ci sono tutta una serie di azioni non tecniche che però portano questo guadagno nell'organizzazione. E quindi è per questo che queste persone qui guadagneranno sempre di più di queste persone qui. Ma la cosa più simpatica è che queste azioni qui spesso queste persone qui non le sanno fare. E quindi che fanno? Ti aumentano lo stipendio, ti danno dei benefit, così da creare quelle manette che non te ne fanno andare dall'azienda. Loro possono continuare ad avere la loro organizzazione che fa soldi e tu per tutta la vita lavori per i sogni di qualcun altro. Combatti per le battaglie di qualcun altro. Ora con questo video non volevo dirvi lasciate il lavoro o smettetela di studiare ingegneria informatica. Quello però che voglio dirvi con questo video è che capite bene cosa volete raggiungere, capite bene cosa volete fare. E se qualcuno mi chiede ancora perché non ho continuato a fare l'ingegnere, è per questo. Perché mi ero stancato di combattere il battaglio di persone che pensavo fossero più stupide di me. Perché mi ero stancato che i più intelligenti devono stare a sentire gli ordini dei più stupidi. Perché mi ero stancato che le persone che sapevano di più devono stare al soldo delle persone che ne sapevano di meno. Perché mi ero stancato di sentirmi il più intelligente del mondo e non dimostrarlo nel mondo. Perché anche questa è un'altra morale che vorrei lasciarvi in questo video. Le persone che decidono vengono pagate di più perché si prendono dei rischi che una persona che semplicemente va deep nell'aspetto tecnico non si prende. Andare deep in una skill è relativamente semplice. abbiamo una cartella con certe cose tecniche scopriamo che ci sono alcune cose che non sappiamo e troviamo un'altra cartella con altre cose. Poi troviamo un'altra cartella con altre cose e via 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 via. Quando invece organizzi dei sistemi tu magari sai delle robe poi a un certo punto hai tempo limitato e soldi limitati. E quindi questa cosa qui la devi far fare a qualcun altro. quel qualcun altro magari non è bravo come te e quindi magari devi hai pagato qualcuno per fare un lavoro per totti mesi e dopo alla fine le devi mandare a quel paese. Poi hai un problema che magari vuoi fare qualche altra cosa ma ti manca il tempo per farla. Allora a quel punto pensi ma io se prendo direttamente una persona che è già esperta sto a posto ma allora ti mancano i soldi. Una cosa sono gli scacchi una cosa è un gioco competitivo con delle risorse limitate in cui devi creare la tua civiltà. Quindi è per questo in realtà che le persone che stanno nella parte gestionale guadagnano di più della persone che stanno nella parte tecnica. Ed è per questo che quando stavo all'università il professor Fratto Lillo mi disse dovete decidere se volete chiudervi sempre di più in un laboratorio o se volete fare qualcosa di gestionale perché andare di in una skill avendo come variabile solo la propria voglia e il proprio tempo è un gioco per principianti. Gestire il tempo i soldi di un'organizzazione e quindi anche di altre persone è lì che c'è il gioco dei professionisti. Ed è per questo che stimo così tanto gli imprenditori anche se magari non erano così tanto bravi in matematica. Se sto per sapere cosa sto facendo io per avere questo tipo di organizzazione cosa sto cercando di creare in descrizione c'è un link al progetto che sto per lanciare. Ciao ragazzi!